che volete parlare di sesso con me per caso sesso normale o sesso selvaggio no normale con mia moglie normale approfondiamo questo con tua moglie dici sempre con mia moglie è normale ma e perché invece con le altre come selvaggio selvaggio fate l'amore il sesso romantico o un po selvaggio no no romantico romantico sempre romantico sesso romantica e pure romantico purtroppo l'ultimo dei romantici l'ultima volta che hai fatto sesso selvaggio sono passati parecchi anni legame romantico e tu no io c'è fuori chiamiamolo di sesso normale senti gianlu ma perché non ti fuori le mani dal letto le nascondevi le mani e avevi messa al sicuro possiamo fare qualcosa in che senso sesso romantico o sesso sfrenato io penso che oltre al romanticismo se non c'è un po di di focosità di animosità ma di maglialate un po ci vuole ogni tanto una volta ero con un uomo e praticamente l'ho legato i polsi alla spalliera del letto e praticamente l'ho fatto impazzire era lei l'uomo in questione magari io sto disponibile questo è proprio quello che piace a me sesso selvaggio allora andiamo d'accordo che è fatta ecco la coppia formato la cosa più trasgressiva è strapparli la camicia di dosso e quindi subito mentre la tua fidanzato sì sì no no il mio fidanzato appena lo vedi tutto bello vestito e l'hai strappata sia apprezzato oppure ha chiesto l'ho apprezzato tutti i bottoni che saltavano via quindi la parte più selvaggio mi è capitato una volta in macchina con la mia ragazza gli è venuta la fantasia di essere picchiata insomma l'indomani però non ricorda quindi schiaffetti e parolacce sono ammessi? certo che sono ammessi ma dobbiamo stare così selvaggi alla domanda hai mai sognato di fare sesso selvaggio con più persone hanno risposto di sì il 30 per cento delle donne e il 70 per cento degli uomini